A questo punto premiamo e chiudiamo questa giornata con la band che suonerà il suo pezzo, con cui vince il contest realizzato dal WMF in collaborazione con RDS e Next. Sono arrivate moltissime candidature di band da tutta Italia. Si aggiudicano il premio I Semi D'Ortica. Un applauso. Ecco il premio per voi. Complimenti. Sì, davvero, grazie a voi. Grazie mille. Da dove arrivate? Arriviamo da Sesso San Giovanni in provincia di Milano. Facciamo una foto, poi ascoltiamo il vostro brano. Altra foto. Bene, vi lasciamo suonare il vostro brano. Vi riprendo il microfono. Congratulazioni ancora. Questo ve lo ridò dietro le quinte. E sulle note del brano dei Semi D'Ortica, con cui si sono aggiudicati il premio RDS Next, io ringrazio tantissimo Daniel Madam. Sono io a ringraziarti. Saremo sicuramente insieme anche il prossimo anno con Daniel. Ci vediamo sul pool stage alle ore 18 per chiudere questa tre giorni del WMF. i Semi D'Ortica. Grazie. Grazie. Qua c'era le conversazioni al sangue, lasciare i segni delle elita ai fianchi. quando dormi male, da chi orecchio mi senti? quando dormi male, da chi orecchio mi senti? quando dormi male, da chi orecchio mi senti? quando dormi male? Eccola la luce dei tuoi occhi, eccolo il volume del tuo sorriso. Ti guardano e ti fanno il dito da lontano, si apre il lissipario. è tutto da rifare. è tutto da rifare, è tutto da rifare, è tutto da rifare, è tutto da rifare. è tutto da rifare, è tutto da rifare, è tutto da rifare, è tutto da rifare, è tutto da rifare. Quando dormi male da che orecchio mi senti, quando dormi male da che orecchio mi senti Eccola la luce in te i tuoi occhi, eccolo il volume in te e il tuo sorriso Oh, ti guardano e ti fanno il dito da lontano, se avrei il simbario è tutto da rifare 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 Grazie Grazie mille davvero, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti